Musica Cari amici follower benvenuti e ben ritrovati su Klausuba il gioco di ruolo su mobile si questo è il terzo gameplay dove 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 andremo ad formare una squadra nuova composta da ben 5 giocatori perchè io nel frattempo non sono stato a farvi un altro gameplay dedicato ai vari combattimenti per arrivare e superare il rank 8 così voi avete visto nei precedenti i tre personaggi che si alternavano nei vari combattimenti nel quest nelle quest e invece io ho sono arrivato quindi ho sbloccato il rank 8 così ne abbiamo ben 5 ho già formato una prima squadra con i tre personaggi precedenti che adesso vi faccio vedere andiamo a vedere andiamo a vedere su team faccio vedere che cosa i personaggi no scusate dov'è qua quest non è team ma è quest no team mi sono un po' party eccoli qua eccoli qua questi sono è la prima squadra che ho formato ufficiale e poi ora ora ne voglio farle informare un'altra di 5 giocatori mai usati mai adoperati quindi come vedete abbiamo 4 spazi questo lo possiamo lo lo leviamo no dopo lo leviamo switch ok back party nuova squadra qua allora sul fronte come ti ho visto abbiamo già lui ne prendiamo altri 4 perché nell'altra squadra non l'abbiamo messo lui allora possiamo prendere questa qui poi che si chiama attenzione che si chiama vedo info vediamo subito ah Megumin e l'altra Megumin ok con l'altro costume allora prendiamo Megumin poi prendiamo lui che è Kazuma che non l'ho messo nell'altra squadra poi un terzo che potrebbe essere potrebbe essere tipo lei tipo lei questa qui che si chiama andiamo a vedere vediamo come si chiama yun 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 quindi prendiamo yun yun poi invece gli altri due utilizziamo lei assolutamente che è with quindi prendiamo with quindi prendiamo with e infine infine prendiamo questa qua che si chiama arue ok molto bene follower abbiamo formato una prima squadra con tutti i personaggi nuovi mai visti quindi non so niente andiamo a a mettere un po' di questo qua poi andiamo a mettere questo qua poi mettiamo quest'altro personaggio qua poi abbiamo visto che c'è un 10% da qualche banda vediamo ecco qua un 10% qua poi un altro 10% qui molto bene poi ne è saltato fuori un altro che lei poi un altro che lei poi sub sub questa qua e e e e abbiamo anche questa qua molto bene perfetto abbiamo formato ah no scusate c'abbiamo ancora un'altra sfuggita mettiamo lui ok formata la seconda squadra eh se avete dei personaggi da consigliarmi come abbastanza forti scrivetelo nei commenti eh voi che siete magari andati avanti un po' col gioco ora 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 noi li facciamo ripartire quindi facciamo un po' di training partendo dal primo capitolo quindi andiamo a vedere un po' andiamo a vedere un po' ecco rifacciamo il primo capitolo perché loro devono logicamente ehm aumentare di livello quindi sono praticamente base loro partono da livello 1 sono già a posto prepariamo è già tutto preparato tutti pronti non prendiamo questa ma prendiamo questa la novità la nuova squadra mi raccomando follower iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina eh che è fondamentale così vi arriveranno tutte le notifiche quando posto i video mi raccomando eh ok iniziamo subito si parte subito molto bene quindi questo questo terzo gameplay dedicato proprio a a proprio i nuovi personaggi eh quindi proveremo questi nuovi personaggi come si comportano con i nemici le loro magie le super mosse abbiamo il lupetto qua quindi le facciamo un po' le addestriamo eh abbiamo vinto molto bene vedete vedete come il livello va su in fretta vedi tutti i tre quattro quattro wow vanno su anche in fretta eh come il livello molto bene follower cross gioco gay gioco disponibile solamente per mobile eh io se anche android andiamo già con il capitolo 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 è sempre uno ma il livello due utilizziamo sempre la stessa squadra squadra non si cambia assolutamente proviamo questi nuovi personaggi ok abbiamo questi due lupettini molto bene un gioco veramente fantastico a me piace veramente tanto mi sono appassionato anche a questo tipo di gioco molto bene vi ripeto è tratto dall'anime giapponese che in giappone nel sollevante è molto molto famoso bene ok abbiamo fatto fuori anche questo questi due personaggi victory beh adesso le prime le prime sono facili abbiamo già un quinto livello ragazzi ecco qui 5 5 5 5 e salgono salgono i personaggi vi ricordo che arrivati al rank 9 succede qualcosa e quindi prepariamo siamo già al livello 3 del capitolo 1 go 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 start molto bene abbiamo lo scheletrino ok a posto forziere vai 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 lo sconfitto con un colpo fighissimo è fighissimo molto bene molto bene lo spadino abbiamo anche questo vediamo di utilizzare tac abbiamo sconfitto anche lui quel piccolo scheletrino molto bene victory sì questi sono i primi livelli facilissimi giusto per far salire di livello siamo già a un livello 6 6 6 5 14 ve l'ho detto al contrario beh va bene intanto avete capito avete visto procediamo e proseguiamo molto molto bene capitolo 1 livello 4 stessa squadra e via start sì 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 follower start si procede si procede è morti sono morti già ottimo lavoro bene bene puoi andermi avanti anche con la storia con la storia vera e propria ole vai che dobbiamo siamo arrivati al punto che dobbiamo sconfiggere il boss del secondo livello il 2 8 ok saliamo di livello bene next e go follower andiamo avanti andiamo avanti e si 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 e vediamo un po' cosa succede capitolo 1 livello 5 questi intermezzi sono molto carini ok coniglietto e abbiamo fatto fare il coniglietto molto bene vai 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 con questa magia vai procediamo vi ripeto questo questo gameplay questo terzo gameplay lo è specifico per provare nuovi personaggi eh quindi non andremo avanti direi proprio di no proprio nello specifico facciamo salire di livello un po' così arriviamo anche a rack 9 e vediamo un po' cosa succede perché succede perché ci sono dei cambiamenti ok sempre in livello 7 level up how really union with I assure you my heart still human a rue I dare say you are nicer than you let on next un po' di postioni un po' di ticket un po' di oggetti che serviranno andiamo avanti andiamo al capitolo 1 livello 6 abbiamo sbloccato degli altri video ma per ora non li guardiamo watch later e si fa il prossimo combattimento bene ecco in un colpo solo pac benissimo critical molto bene si vediamo lei bene abbiamo fatto fare anche l'altro coniglietto e adesso c'è il boss della rana vi ricordate c'è il boss molto bene qua vedete la magia che sta salendo da già un 75% però non servirà perché riusciamo a perché riusciamo a ammazzare la rana è morta la rana è morta benissimo victory siamo già a livello 8 quasi tutti tranne uno che è settimo ancora di livello next e andiamo al capitolo 7 begin vi ripeto sarà anche un po' ripetitivo se avete dei personaggi da suggerirmi scrivetemelo nei commenti così lo proveremo insieme o li proveremo insieme in un prossimo gameplay ok vai tac morto adios is dead abbiamo anche questi pipistrelli volanti c'è rimasto lui bacchettina ale secco victory e siamo al nono nono per lei per lei per lei abbiamo ancora l'otto ok via saliamo saliamo pian pianino saliamo di livello 1 8 vai bene ecco fuori bene con lui con lui ok facciamo fuori tac bene via andato abbiamo superato anche questo victory livello 9 9 8 oh player rank up siamo arrivati al nonno al rank 9 abbiamo ricevuto 50 di stamina ma abbiamo una novità eh abbiamo una novità follower go to smithy ecco quindi più di una novità andiamo a vedere cos'è smithy smithy cosa succede lì cosa succede lì oh alice craft weapons and jewelry and smithy each character as their own compatible weapon type jewelry on the other end can be equipped by anyone oh upgrade equipment sell equipment fantastico 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 quindi possiamo anche comprare dell'equipaggiamento e delle armi ecco per adesso non c'è niente benissimo però chissà se possiamo fare l'upgrade upgrade upgrade pum 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 upgrade adesso devo capirci un po' eh craft find material to craft combat gear vediamo un po' craft incomplete oh l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto abbiamo fatto un craft basta new vai molto bene abbiamo questi triangolini che ci indicano che possiamo fare crafting che è molto 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 importante perché così possiamo effettuare danni maggiori ai nostri nemici bene vedete una cosa abbastanza anche sbrigative veloce anche qui crafting benissimo ora vediamo se possiamo fare l'upgrade esatto possiamo fare l'upgrade ora ottimo 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 quello che pensavo facciamo ancora un upgrade equipment upgrade e abbiamo già fatto sell adesso oh adesso possiamo comprare perfetto sell no 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 ce lo teniamo a posto no non vediamo niente molto bene ora ora quante quante monete abbiamo cioè quanti eh ne abbiamo 660 no pochi qui voglio vedere di trovare altri personaggi niente continuiamo con le nostre quest quindi capitolo 2 partiamo dal primo ora vedete 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 ha ha guardate un po' quel successo you can now equip weapons and jewelry let's give it a go è una cosa molto importante fighe ci dice di cliccare qua equip change ok qua c'è la spada change perfetto questo vediamo qua equip niente a posto quindi abbiamo ok bene al prossimo giro bene iniziamo e partiamo e subito subito aspettiamo a vedere un po' di provare questi personaggi con le armi upgradate bene vai ole 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 follower ole che spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo follower guarda un colpo solo praticamente eh eh figo figo ragazzi fighissimo fighissimo volevo vedere anche le magie però si carichano lentamente vinto victory e andiamo a livello andiamo in livello niente sempre 9 un po' di oggettini quindi che servono anche per il nostro equipasamento per fare l'upgrade tutti quegli oggettini lì che avete visto tutto è utile andiamo procediamo proseguiamo bene si va 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 e via quindi finiremo vi do già il pronostico vi dico che finiremo il secondo capitolo proprio con l'ora eh fino alla fine fino al 2 9 che dovrebbe essere l'ultimo quindi quindi fino al nono livello così potremmo vedere le magie le nuove magie le nuove magie bene avanti avanti procediamo velocemente victory ok siamo già al decimo livello ottimo molto bene molto bene siamo già al terzo via a quei super coccodrilloni oppa la la oppa la la attenzione bom fuori per fare molto essere molto veloci vai fate anche questa i due fantasmi ok si va avanti bene attenzione lei oh si lanciano i ghiacci ecco 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 attenzione attenzione guardate le super mosse eh via 1 via 2 e basta 1 victory voglio fare vedere anche l'altra ma è bastata quella 10 10 9 16 e vai procediamo altri oggettini bene 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 follower bene ancora i maghetti i maghettini prenditi questo morto vai sotto forziera diamo 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 morti vai fulmine c'è il sereno pam trio un bel trio di maghetti vai che mi sembra un po' orco orco di Iman questi qua eh assomigliano un po' dai avanti bene super mossa vai paparabam paparabam morto eh è morta anche lei ma vabbè dai eh ci sta e adesso arriva la nuova oh là però abbiamo vinto livello 10 11 e abbiamo il livello 5 del capitolo 2 start go 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 follower go 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 si va avanti dopo prima di arrivare al boss eh andiamo a vedere se riusciamo a fare un altro upgrade eh alle armi eh vediamo un attimo eh cosa succede vedete se possiamo fare qualcosina eh e dopo il boss è abbastanza pesante andiamo c'è pesante tosto poi volevo dire attenzione questi qui che sono terribilmente dannosi per noi perché lanciano questi qua che ci danneggiano quindi cala la nostra vita ma niente paura ma niente paura che le nostre maghette ci salveranno da questi malvagi personaggi temibili allora guardate un po' altra super magia tac light of saber yeah e victory perfetto livello beh 11 11 11 10 16 ottimo via 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 questo video non sarà neanche particolarmente lo troppo lungo eh non voglio allungarlo troppo ve lo dico già bene begin start via go ikimasu vai bene 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 con lui e lei fatto fuori bellissimo fantastico eh adesso abbiamo questi due qua questi verdi due serini volanti che dobbiamo sconfiggere perché vedete ci danno fastidio ci danno molto fastidio entra lei ecco qua ecco qui ecco qua vediamo se non fa la super mossa ancora ah ci cadono un po' di pietre ah 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 bellissimo 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 procediamo eccolo qua bene attenzione fuori ah ah lei è morta negumi entra lei oh la proviamo la proviamo forse no non la proviamo ora non la proviamo da 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 livello 11 11 bene siamo già al settimo eh attenzione dopo andiamo a vedere di fare se si può upgrade le armi eh pronti? via vai e adesso si balla e adesso si balla pronti? forza 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 e abbiamo fatto fuori anche quello benissimo 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 va il fulmine questo qua lo scheretro forza spadino spadino morto via attenzione oh super mossa attenzione di lui guardate guardate fighissimo figata anche lei beh fuori dentro l'altra benissimo victory aumentiamo di livello 11 12 12 11 16 per lui oggettini molto importanti e ora e ora prima di andare a sconfiggere il fatidico boss dell'ottavo livello andiamo a prepararci nello smite vediamo di fare un craft si possiamo farlo upgrade crafting complete ok un altro craft molto bene perfetto questo no questo no questo no questo no questo no ancora questo si bene adesso basta vediamo qua si bene no 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 ancora questo si no andiamo qui andiamo con queste andiamo con queste perfetto ancora andiamo con queste qua benissimo un po' di soldini per sistemare le nostre armi fare un bel upgrade questo no questo niente 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 giù niente niente per adesso niente bene bene back upgrade c'è da fare l'upgrade c'è da fare l'upgrade c'è da fare l'upgrade ho notato affiniti 2 watch later prendiamo questo e vai watch later perfetto via indietro oh e adesso andiamo al boss e adesso andiamo al boss e abbiamo delle ricompense che le andiamo subito subito a prendere che sono molto importanti abbiamo la bellezza di 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 960 pietre ottimo main quest e andiamo al capitolo 2 e all'ottavo livello qua c'è il boss attenzione squadra non si cambia aspettate niente andiamo 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 bene start via abbiamo queste sempre benissimo vai l'animaletto volante attenzione attenzione e abbiamo sconfitto lui procediamo avanti quindi teniamo le magie alla fine per il signor boss che non è facile ve lo anticipo già e cosa fanno si curano attenzione 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 è già morta è già morta ma arriva lei arriva lei arriva lei con i suoi bene 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 ora ci dovrebbe essere il boss follower ci dovrebbe essere il boss esattamente boss alert attenzione qua si non si scherza non si scherza non si scherza si parte con la prima super magia e poi si parte con quest'altra magia e poi ci deve essere anche la sua magia no entra lei perfetto molto bene sei un po' di danni non tanto vai ormai ci siamo manca poco manca pochissimo vedete vedete che malabarra sta diminuendo c'è solo una piccola stanghina rossa vai vediamo un po' è morto e che bellezza wow 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 molto bene victory un po' di esperienza non guasta mai eh così nei pietre che ci servono sempre ora andiamo a fare l'ultimo l'ultimo che dovrebbe essere l'ultimo io dico l'ultimo dovrebbe essere l'ultimo il nono il nono livello prima di passare al terzo capitolo che lo vedremo nel prossimo video eh oh abbiamo i luppetti che hanno cambiato colore sono giallini gialli e grigi vai vai che si parte vai che si va vai che si va bene vai e beccati questa tra con bel 500 boom morto ah anche questi qua anche l'orchetto qua è questo fantasmino ha cambiato la tunica è gialla attenzione attenzione è morto uno ma abbiamo la nostra riserva attenzione qua ecco là morto super mossa alle pam e vai beh lei muore sempre insomma dai c'è la nuova victory bene e si va avanti oggettini oggettini ah no abbiamo il 2 10 eh abbiamo un altro livellino che dovrebbe essere l'ultimo eh vedremo vedremo un attimo va tadam bene via 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 muori vai molto bene lupetto fantasmini ecco in inizio sono un po' ripetitivi eh ma va bene dai ci sta eccola eccola qui che è entrata nel nostro party lei o anche lui è morto anche lui è morto via via e via anche è morto anche lui ecco qua victory però rank up siamo già al decimo al rank 10 follower rank 10 figo 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 battle arena unlocked wow go to arena vediamo cos'è questa arena si manda già qua battle arena dice compete for the top score in the battle arena get me and the item ok quindi ci danno degli oggetti facendo questa arena no non la facciamo per adesso non la facciamo la proviamo in un altro momento torniamo nella home e andiamo a vedere un attimo i regalini accetto un po' di quarzo ok benissimo quindi buongiorno perfetto vediamo se dobbiamo andare avanti con le quest del secondo capitolo o siamo già no siamo ancora al secondo due undici apparo apparo siamo al due undici procediamo procediamo forza 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 che vogliamo finire questo secondo capitolo via ho parlato che non sarà troppo lungo il video ma mi sa proprio di no ok fatto si va si va bene molto bene ecco hanno ricevuto un bel colpazzo tutti quanti la vita è calata tanto per fare bom 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 vai il cane il lupetto è andato via è morto qua ci siamo lei è morta forza è morta anche lei molto bene 90% della super mossa eccola eccola guardate questa è nuova questa è nuova bellissimo 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 fantastica avete visto eh fuori via victory e siamo già al tredici lui diciassette poi c'è negumi dodici poi c'è l'altra tra tredici dodici dodici ok konosuba vai vediamo un attimo vediamo un attimo se abbiamo terminato il capitolo no ne abbiamo un altro capitolo dodici cioè capitolo due livello dodici avanti 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 è infinito questo non finisce più cioè è complesso nel senso lunghetto bene 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 e non rifacciamo non si spaventa niente vediamo un po' morti va no avanti si procede go 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 la magia è ancora presto lei è morta ma abbiamo i rinforzi non vi preoccupate beccatevi questo e ancora questo ai 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 ecco adesso entra lei alle via ah ce n'è ancora bene morte oppala un 80% della magia un 80% eccola 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 guardate vediamo un po' ah ma ne restano due ne restano due benissimo ne resta una ma dovremmo farcela super mossa guardate e vai si sono rimasta solo lei è rimasta solo lei ma siamo riusciti a superare il livello ci ha dato una sola corona level up per union anche per with I'm so happy I call just vanish anche per I dare say you are nicer than you next vediamo un po' cosa succede cosa succede cosa succede ah ci abbiamo anche il 13 watch later il 13esimo livello attenzione 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 possiamo equipaggiare si vediamo se qua niente qua niente e qui niente ok via speriamo di essere fortunati speriamo di essere fortunati perché le cose si iniziano ad essere iniziano ad essere complicate no questi qua no vai fatto fuori uno vai secondo benissimo forza 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 andiamo procediamo piangono ah 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 cos'è che vi fa piangere cos'è cos'è che avete pam critical ma che mamma mia fa ridere fa ridere sto gioco fa ridere fa ridere un forziere dobbiamo colpire un forziere ah c'è l'ombra sotto attenzione attenzione partono le super nosce le super magie attenzione vai eccola prossima vai morto victory wow tre corone tre coroncine signore signores tre coroncine ed ora ed ora cosa succede che c'è il livello 14 c'è il livello 14 abbiamo sempre questi qui che piangono bene benissimo vai vai perfetto si va abbiamo ancora il forziere abbiamo ancora il forziere con l'ombra sotto ecco benissimo e un po' ecco morto ready to go e bambà e bambà ma chi è questo boss qua fa anche rima vai rullo 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 di magie super magie attenzione qua abbiamo a dare una bella scarica di mosse è morto vale ciao ciao l'uomo di pietra eh ed ora victory 3 coroncine benissimo bene varie pietre gemme pozioni ticket e quindi e now c'è il 2 e 15 c'è il 2 e 15 andiamo 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 secondo capitolo quindicesimo livello attenzione due ombre parca alla la 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 alla parca la 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 attenzione attenzione qua non si scherza diventa sempre più difficile complicato attenzione attenzione oh mettiamo questo oh mettiamo lei si state calmi state calmi state calmi ecco già fatto fuori uno resta per morire è morto bene primo fatto secondo abbiamo questi qua che piangono molto bene ecco sì ecco piangono e piangono con le vostre lacrime di coccodrillo ecco uno è morto ecco bene vai si era accesa la light of cyber ma non c'è stato bisogno abbiamo ancora il super l'uomo di pietra il boss di pietra ma abbiamo un'altra super mossa attenzione e abbiamo un'altra mossa attenzione che non si scherza e vai morto 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 victory 2 coroncine sì perché non è stato facilissimo next vediamo se c'è un 2-16 c'è un 2-16 c'è un 2-16 watch later ecco c'è il boss c'è il boss c'è il boss qui qua dovremmo essere arrivati al capoline del secondo capitolo qua dovremmo essere arrivati al capoline vediamo bene abbiamo le ombre abbiamo le ombre attenzione alle ombre una è già fatta fuori è già morta ecco qui ancora critica al morto vai 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 secondo secondo boss ha però un boss dietro l'altro ragazzi qua è difficile le cose si complicano ecco questo è già fatto fuori abbiamo lei all una bella gettata lui fuori attenzione ancora non è ancora morto e adesso è morto non è ancora morto adesso si boss finale boss finale siamo in due siamo in due siamo in due e la magia non è ancora pronta ecco è pronta ok perfetto vediamo un po' un miracolo ci vuole un miracolo un miracolo che non succede ecco ecco morto non ce la facciamo mi sa ok follower non ce l'abbiamo fatta niente paura niente paura perché chiamiamo l'altra squadra l'altra squadra quella più forte di questa esatto dice di di fare un upgrade chiamiamo l'altra squadra quindi la prima squadra torno in azione torno in azione la prima squadra che non è lei ma è sono loro molto bene perfetto chiamiamo l'oro bene vediamo l'ultimo sì bene ok begin attenzione attenzione che siamo che ci siamo prima squadra lei rigenera anche dalle vite quindi abbiamo anche un po' di chance in più abbiamo anche dei nuovi protagoniste streghette ecco un'esamorta mamma abbiamo questa novità bene ok qua ci siamo qua ci siamo il fatidico boss voto bene le magie le magie si stanno caricando le magie si stanno caricando però non le voglio sprecare qua le volevo utilizzare dopo perché ha più senso ora esatto le sprechiamo dopo le utilizziamo dopo le magie le utilizziamo dopo perché ora non ha senso ora usiamo le spade e altre cosine ok abbiamo ancora di spada e vai ci siamo con l'altra spada vai ce l'abbiamo fatta ora vai di magie vai di super mosse per sconfiggere l'ultimo boss finale siamo pronti? are you ready? vai con la prima vai con la prima guardate il filmato che figata che è vai vai con quest'altra bene io ho fatto un po' il soletico oh la la ragazzi oh la la adesso andiamo la indifesa rigeneriamo colpiamo ecco è scatenato attenzione ce la dovremo fare 33% di magie per il caricamento è un po' lunghetto speriamo di farcela così attenzione 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 siamo a metà non è facile non è facile follower non è facile non è facile assolutamente no ma abbiamo tutte le carte in tavola per vincere anche se è difficile anche se è difficile abbiamo tutte le carte ora vai super mossa perfettamente ok vai prendi questo bene vai 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 pronti ecco una è morta ma abbiamo la riserva eccola qui guardate una volpina bene oh super mossa super mossa super mossa victory ce l'abbiamo fatta è stata una partita sofferta sofferta grande level up per darkness benissimo what are you planning to do with me no, to me anche se è una corona però ce l'abbiamo fatta ci rifaremo sicuramente riproveremo quando i personaggi saranno un po' più forti quando saliranno di livello ora dovrebbe essere sbloccato perfetto watch later il terzo il terzo capitolo guardate lì facciamo il terzo nel prossimo episodio nel prossimo gameplay è stato un po' lungo mi sono dilungato ma ho voluto finirlo mi raccomando spoliciate ci vediamo alla prossima e ciao a tutti iscriviti al canale ciao a tutti ciao a tutti